Un video postato e condiviso sui social dall'associazione Luca Coscioni. L'autore del messaggio è Fabio Ridolfi, 46enne di Fermignano e il contenuto del messaggio che veicola lascia spazio a pochi commenti. Gentile stato italiano, da 18 anni sono ridotto così. Ogni giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibile. Aiutami a morire. Fabio da 18 anni è immobilizzato a letto in quanto tetraplegico. Può muovere solo gli occhi e comunica soltanto direzionando il puntatore oculare. Ed è così che compone un messaggio disperato. Il suo rappresenta il terzo caso italiano di richiesta di suicidio assistito. E anche questo arriva dalle marche. I primi due, Mario e Antonio, nei mesi scorsi hanno scelto nomi di fantasia e le riservo dell'anonimato. Fabio Ridolfi invece ci ha messo nome, cognome, faccia e questa videotestimonianza per rafforzare la sua richiesta. La sua non è vita, vuole morire e vuole farlo senza soffrire. Intende farlo nei modi e nei tempi che desidera e sente che la legge è dalla sua parte. Fabio Ridolfi infatti è assistito dall'associazione Luca Coscioni e si è rivolto all'Asur delle Marche in seguito ai precedenti giuridici creati proprio dai casi di Mario e di Antonio. L'associazione ha infatti attivato le verifiche previste dalla sentenza della Corte Costituzionale relativa al caso di DJ Fabio attraverso il quale il 25 settembre del 2019 la Corte aveva aperto al suicidio assistito. L'associazione Coscioni attraverso il suo segretario nazionale Marco Cappato ha riferito che quello di Fabio è un diritto riconosciuto dalla Corte Costituzionale ma come nei casi di Mario e Antonio il ritardo dell'Asur nel rispondere alla sua richiesta diventa una violazione agli obblighi di legge che acquisisce mesi di sofferenze reputate sempre più insostenibili.